Il 1 dicembre 1685, il dottor Toop, medico di campagna inglese, racconta a un gentiluomo come nel corso del tempo si sia procurato ceste su ceste di osso umane e di come l'abbia trasformata in medicina per il bene dei suoi pazienti. Sono Alessandra del canale Polvere di Teschio e state ascoltando Del Corpo Umano Non si butta via niente, un podcast dedicato alla storia della medicina cadaverica in Europa. Il dottor Toop racconta come le ossa si siano in qualche modo decomposte, ma i denti del dei teschi siano perfettamente bianchi e duri, dato che all'epoca non si consumava tabacco. Le tombe da cui attingeva il dottor Toop erano vecchie di secoli. In questo modo il buon dottore riusciva a prendere due piccioni con una pava, preparava i medicinali e lo faceva utilizzando resti con cui nessuno dei suoi pazienti poteva avere un legame profondo. Forse si trattava di antenati, certo, ma nessuno rischiava di vedersi le ossa del nonno o del padre sbriciolate e trasformate in medicina. Oltre a venire lavorate in una polvere, si potevano anche usate per ricavare un olio utile contro la gotta. Come per altra medicina cadaverica, il potere curativo delle ossa sta nell'essenza vitale che mantengono al loro interno. Il religioso white look Bolstrad racconta di come i corpi, prima di ridursi in polvere col passare del tempo, hanno ancora una vita, come viene dimostrato dal crescere di unghie e capelli. Noi oggi sappiamo che non crescono veramente, ma è solo un effetto del ritrarsi della pelle. Tuttavia deve essere stato impressionante in passato notare queste cose. Bolstrad aggiunge anche che l'umidità contenuta nelle ossa implica una conservazione per lungo tempo della forza vitale, riferendosi forse anche al midollo, come dimostrato dai corpi vecchissimi che mantengono ancora intatte le ossa. Tornano dunque le nostre mummie anche in questo senso. Esattamente come le mummie nell'episodio precedente, questa distanza temporale poteva rendere più accettabile l'uso e il consumo delle ossa. Ossa che non erano molto difficili da trovare. Una persona senza scrupoli poteva andare a rubare negli ossuari, ma anche senza correre questo rischio, imbattersi in resti umani era più frequente di quanto ci potremmo immaginare. Con la grande quantità di guerre ed epidemie, era molto probabile che qualcuno restasse privo di sepoltura, senza contare poi eventuali vittime di omicidio e i suicidi, sia coloro i cui resti non venivano mai reperiti, sia coloro che venivano seppelliti lontano dalla comunità in terra sconsacrata ai suoi confini. Le sepolture del passato non erano poi particolarmente accurate, a meno che non si fosse ricchi o influenti. Più si era poveri, peggiorerà la qualità della sepoltura, e non era infrequente il rischio di venire sepolti nudi con solo un sudario, e a volte nemmeno quello, sotto poche palate di terra. Ciò significava diventare preda facile di animali e agenti atmosferici, alimentando le varie leggende di vampiri e non morti, ma anche di persone come il dottor Toop, a caccia di ingredienti per i propri medicinali. Se al giorno d'oggi l'idea di trovare un teschio umano nella campagna può farci venire i brividi, per un manovale dell'epoca era come trovare un mazzetto di manconote, dato che lo si poteva vendere per un equivalente in denaro di due settimane di lavoro. E in effetti il teschio rimane il re indiscusso delle ossa umane usate a scopo medico, utile per curare emicrani e mal di denti, ma anche epilessie, gotta, reumatismi, emorroidi e sanguinamento eccessivo, siamo pur sempre in epoca dei salassi. È una sorta di panacea molto apprezzata. Agisce anche sulla mente. Abbiamo le lettere di un'infelice signora inglese che beveva la sua cioccolata calda con polvere di teschio, per poter superare così quella che ai nostri occhi è una moderna di pressione. Assieme ad altri ingredienti può essere mescolato vicino al vino di qualcuno e funzionare da siro della verità, cosa che il segretario personale di Carlo II d'Inghilterra usava di continuo per tenere d'occhio possibili cospiratori e nemici del re. Carlo II regnò durante il 1600, pertanto non stiamo parlando di superstizioni medievali o rituali così antichi da fare in palle dire Lovecraft. Parliamo di qualcosa di conosciuto alle autorità nel campo medico dell'epoca. Ritroviamo la polvere di teschio anche negli ingredienti fondamentali per le ricette della medicina simpatica, il principio per cui il medicinale venne applicato sull'arma che ha causato la ferita o sulla benda del malcapitato debitamente messa a bagno in un bacile. Oltre alla polvere di teschio servivano grasso umano, mummia, sangue umano e olio di lino. Non tutti i medici però potevano andarsi in giro a scavare tombe come faceva il dottor Tup. Un medico di città poteva dunque fare affidamento sui teschi dei condannati a morte, che in alcune aree d'Europa dove la pena di morte era più presente, come l'attuale Germania erano facili da trovare. Se sapessero di quanto possa essere utile il corpo di un condannato a morte, non lo si lascerebbe marcire nelle gambe, in cima alle ruote o a penzolare dalla corda, ce lo dice Paracelso, di cui avevamo accennato già nello scorso episodio. Ed è proprio il teschio di questi ultimi, ossia gli impiccati, a essere particolarmente adatto a diventare medicina. Il professore tedesco Rudolf Guclenius, vissuto anche lui nel 1600, si raccomanda di utilizzare proprio il teschio delle persone impiccate, perché tramite lo strangolamento messo in atto dalla corda, la forza vitale resta intrappolata nella testa del condannato e quindi poi nel suo teschio. Questa forza vitale rimane a disposizione per sette anni dopo la morte. Curiosamente, le impiccagioni erano riservate agli uomini più umili e le decapitazioni avevano una dignità superiore. Poteva capitare che un condannato a morte chiedesse non divenire graziato, ma divenire decapitato anziché impiccato, favore che a volte veniva concesso e a volte veniva negato. Privileggiando i corpi degli impeccati, si tendeva comunque a preservare i resti di coloro che erano stati decapitati, almeno preservarne i teschi. Anche un collega di Guclenius, il belga Van Helmont, ci dice la sua e aggiunge alla lista dei possibili candidati anche i corpi delle persone condannate a morte mediante la ruota. La condanna a morte mediante la ruota veniva riservata di frequenti abbriganti e lati da strada e prevedeva che il condannato venisse legato a terra, mentre il boia gli passava sopra una ruota di un carro, spezzandogli le osso in vari punti. Anche in questo caso abbiamo una forma di condanna a morte che non riguarda nobili o personaggi influenti. Dal punto di vista medico, resta importante che non si tratti di decapitazione, perché anche nel caso della ruota, il cervello deve poter marinare nel cranio e fargli assorbire le sue energie per poter diventare un ingrediente di un medicinale, come se il cranio diventasse un piccolo laboratorio alchemico. Queste energie vitali potevano anche essere estratte dalla muffa e dal muschio che crescevano sui crani. Lo spirito vitale si condensa e diventa questa sostanza muschiosa, utilissima a scopo medico, in particolare per fermare l'emorragia e il flusso del sangue. Sappiamo che veniva infilata nel naso di chi soffriva di sangue al naso frequente, ed era così potente che il chimico Robert Boyle riesce a fermare il proprio sanguinamento dal naso semplicemente stringendo tra le mani e scaldando questo peculiar ingrediente. Probabilmente parte del funzionamento di questa procedura, che agli occhi delle persone dell'epoca funzionava o non avrebbero continuato a usarla, sta nel fatto che lo sfregamento di una polvere stimola la coagulazione. Alcuni tipi di muffa poi potevano anche contenere sostanze antisettiche. Come in molti casi per la medicina del passato, a un principio corretto viene associato a una spiegazione sbagliata. Pensate anche al principio riconosciuto dal medico romano Galeno di come la nostra alimentazione è cruciale per la nostra salute. Nessuno al giorno d'oggi lo negherebbe, ma nemmeno cercherebbe di curarsi da grave malattie mangiando e bevendo alimenti che seguono il principio della teoria degli umori, ad esempio bevendo un vino a cui sono attribuite le caratteristiche di caldo e secco, per controbilanciare un presunto eccesso di umori freddi e umidi in corpo, almeno spero. Sempre il belga Van Helmond parla di questa muffa, portando particolare attenzione all'influsso degli astri che ne agevola la crescita, fertilizzando le energie vitali contenute al loro interno. Non stiamo andando nel regno della stregoneria, badate bene. Gli astri sono stati messi in cielo da Dio, quindi Dio ha fornire questo potenziale muschio che cresce sui crani. Ed è anche il motivo per cui gli ossuari non erano una fonte particolarmente amata per la muffa dei crani, non essendo esposti agli astri. Gli inglesi però trovarono una soluzione a questo problema, l'Irlanda. Tagliare le teste ai propri nemici e disseminarle intorno alla propria tenda da campo era una strategia del terrore, e sappiamo che nel 1566 Sir Humphrey Gilbert, chiamato a sedare una rivolta in Irlanda, fece proprio ciò. La repressione fu così sanguinosa che i morti giacevano in sepolti anche perché non era rimasto più nessuno per seppellirli, creando così una perfetta scorta di teschi a scopo medico. Come per le mummie e le ossa vecchie di secoli, i crani degli irlandesi non facevano perdere il sonno agli inglesi, tartandosi dei resti dei loro nemici. Anche se nei campi di battaglia morivano poi anche gli inglesi, e poteva capitare di importare un teschio dall'Irlanda e di avere sotto mano in realtà un teschio di un combattente inglese morto in Irlanda, senza avere ovviamente modo di saperlo. I teschi irlandesi erano ottimi anche per un altro motivo, appartenevano a persone morte di morte violenta, dunque mantenevano dentro di sé un'energia vitale perfetta da usare in medicina, come ci fa notare Francis Bacon. Questi teschi rimangono in vendita per secoli. Pierre Pomet, farmacista di Luigi XIV, li trova nelle vetrine delle farmacie di Londra, dimostrandoci che era possibile comprare sia il muschio che il cranio sopra cui cresceva, magari da parte di clienti molto esigenti che volevano essere sicuri di comprare davvero ciò che stavano pagando, e non del muschio cresciuto su un albero e grattugiato via per l'occasione. Una lista doganale di possibili merci da importare che risale al 1778, cita ancora il cranium humanum che gli inglesi prendevano in Irlanda e vendevano in Germania, dove era molto richiesto. Osso ai crani umani non sono però l'elemento della medicina cadaverica più longevo. Questo primato forse aspetta proprio il grasso umano, che vedremo nel prossimo episodio. Avete ascoltato Del Corpo Umano Non Si Butta Via Niente del canale Polvere di Teschio a cura di Alessandra. Vi ricordo che ciò che vi porto qui è solo per interesse storico. Non fatelo a casa.